Il premio letterario promosso da Roche per raccogliere storie di uomini, padri, mariti, compagni, figli, fratelli, amici, colleghi che ogni giorno sostengono e accompagnano le donne in lotta contro la malattia. Nel corso della serata di premiazione è stata lanciata anche la seconda edizione dell'iniziativa dedicata alla sclerosi multipla, una patologia subdola e invalidante che colpisce in prevalenza donne e più frequentemente giovani tra i 20 e i 40 anni. Io ho cercato di immaginare questa storia come una battaglia perché in effetti questo è stato ed è paragonato a un match di tennis che è il mio sport preferito. Io ho cercato di rivedere tutti i passi che sono stati fatti durante questo percorso che è durato circa due anni. Quindi dalla notizia della malattia, dal fatto di sentirsi impreparati, preparazione della borsa, andare nello stadio che in questo caso è un ospedale, il campo di gara, quindi combattere contro un nemico che è molto feroce, ha dei colpi vincenti. Quest'anno parliamo di una patologia che possiamo immaginare ancora più subdola, la sclerosi multipla. Immaginiamola come una marea che sale lentamente fino a crescere e togliere il respiro. Però il nostro obiettivo non è solo quello di parlare della patologia, ma cercare di mettere le patologie sotto un'altra lente, cercare di far raccontare la storia delle patologie e delle pazienti dall'uomo. Noi vogliamo cambiare il paradigma dell'uomo che sfugge di fronte al dolore, che sfugge di fronte alla malattia, perché il nostro obiettivo invece è quello di raccogliere storie, storie di speranza raccontate dagli uomini. Avevo 25 anni e piano piano questa malattia è cresciuta con me. Crescendo ho capito che bisognava affrontarle in qualche modo. Allora ho cominciato a aiutare anche nel sociale, ecco io faccio la stilista, a fare sfilate di beneficenza per AISM. Ho cominciato a parlare con le ragazze giovani e affette. Ho cominciato a essere esempio per chi in quel momento era esattamente come me quando avevo 25 anni e quando avevo scoperto questa brutta malattia. Oggi vivono in Italia 115.000 persone con sclerosi multipla, sono 3.400 nuovi casi ogni anno che si aggiungono e sono prevalentemente persone tra i 20 e i 40 anni che poi dovranno convivere tutta la vita con questa malattia. Malattia per la quale oggi ci sono molte risposte. La forma ad attacchiere missioni può essere combattuta con i farmaci che abbiamo a disposizione, soprattutto con la diagnosi precoce, ma le forme progressive sono ancora orfane e stiamo lavorando insieme alle altre associazioni del mondo che finanziano la ricerca sulla sclerosi multipla, mettendo insieme i migliori ricercatori per trovare un farmaco, una risposta anche per le forme progressive. Grazie a tutti!